cari amici buon pomeriggio bene direi che come di consueto ovviamente i takeover di wwe nxt non ci deludono non ci danno mai fregature insomma e per quanto riguarda la trentesima edizione takeover andiamo ad elencare quali che sono stati i risultati per cui dare un mio pensiero bene nel pre show i brisango fandango e taler bris hanno battuto onel orcan e danny burch e legato del fantasma accompagnati da joachin wilde a raul mendoza in un match a tre per determinare l'istrata sfidanti numero uno ai titoli di coppia di nxt detenuti dall'ampirum da fabian eichner suo compagno che ora non ricordo il nome match breve leggo qui 6 minuti e 52 questo non l'ho visto per quanto riguarda proprio lo show secondo me apertura di pepe più molto buona match abbastanza abbastanza intrigante molto divertente quello tra fin bellor timo di toucher match singolo senza alcuna cintura intanto aspettiamo che sembra quasi era un canile vero e proprio ma ormai di tutte di più cittadini cani noi che siamo di cattivo gusto però e vabbè torniamo a noi stavo dicendo fin poi allora ha battuto timo di toucher in 13 minuti e 32 secondi un buono bener secondo me la seconda sfida che è stata abbastanza corposa soprattutto in termini di minutaggio è stato il match con le scale per il titolo reso vacante da kate lee che era doppio campione quindi aveva sia il titolo nord americano che è quello di nxt ad avere la meglio è stato diamant briest che ha superato bronson reed cameron grimes johnny gargano e velvet in dream pensate in 21 minuti e 24 secondi comunque questo per me è il match che se la gioca la grandissima con il main event poi adam call contro pet mcf1 1 contro 1 molto bello anche questo in 16 minuti e 12 ha vinto adam call baby yoshirai contro dakotakai accompagnata da rakal gonzalez mantiene il titolo femminile yoshirai in 17 minuti e 13 ma da quanto è accaduto anche nel post match con è arrivata subito dopo ria ripley e ma questo fa capire come comunque tra le uomini di nxt non corre a buon sangue e questo da una parte buono perché vuol dire che c'è rivalità se no di che stiamo a parlare e va bene poi cario un grosso che non dando sorpresa perché secondo me in molti di noi si aspettavano così come è stato la vittoria del del gigante accompagnato dalla super gnocca scarlet bordeaux che ha battuto ormai l'ex campione di nxt kate lee in 21 minuti e 51 secondi quindi cari amici se dovrei fare una top 3 in questa top 3 ci metterei sicuramente il match vinto da damian briest carry on cross contro kate lee che poi questi due sono stati due match più lunghi e anche l'open air che mi ha divertito quindi insomma certo qui non eravamo nel thunderdome che ci ha presentato a wwe a smackdown la west end ma come si dice certe odd dobbiamo anche accontentarci di quello che ci offrono anzi tra il pubblico c'era anche qualche atleta dei roster principali di roe smackdown si è aggiunto anche in previsione se non vado in rado del main event al commento drew mckindarker proprio nella notte tra oggi e domani difenderà il massimo titolo da wwe al cospetto di the viper the apex predator the legend killer la vipera randy horton quindi insomma siamo andati molto bene in questo possiamo dire andy pasto preesame slam ottimo ma ormai certo io magari te cover non li ho seguiti sin dal primo però diciamo che da qualche annetto li segue sono molto contento ora bisognerà vedere come si ripartirà per quanto riguarda nxt già da stavo leggendo anche pochi giorni fa visto la concomitanza anche delle varie discipline america che sono riprese con il playoff delle varie discipline e nxt avevo letto che questa settimana potrebbe essere sforzato a martedì anziché mercoledì come ho letto anche di un già di dinamite che si è fatto ieri in concomitanza col tech cover per il playoff NBA quindi nxt dovrebbe essere trasmesso in america di martedì mentre sempre ovviamente in america dinamite dovrebbe essere trasmesso giovedì leggevo quindi il mio pensiero assolutamente ma abbastanza positivo da summer slam ovviamente mi aspetto non dico molto di più però mi aspetto sorprese colpi di scena e questo sicuramente io ne sono pienamente certo ce lo faranno vedere per il resto ricordatevi se volete il mio canale offre tantissimi contenuti a gratis se vi va potete spolliciare commentare iscrivetevi al canale e quant'altro se non vi piace il video mettete mi piace non è che o se non volete fare niente non fate niente comunque a me il cover 30 mi è piaciuto e adesso attendo con molto fermento lo summer slam che me lo gusterò domani per il resto buon proseguimento di domenica e di giornata a tutti e prepariamoci anche se io me li gusto sempre alla differita perché la notte me la congelio assolutamente per dormire quindi sono sicuro che domani mi gusterò un ottimo summer slam per il resto salute a tutti ci vediamo alla prossima sempre qui dal vostro nicola de lucia e non dimenticatevi che sport spettacolo intrattenimento e la ricetta giusta per intrattenersi appunto e divertirsi grazie a tutta la prossima e che dio ce la mandi buona ciao ciao